La questione stadio Tomaselli tiene sempre banco. La domanda adesso che chiedono tutti sia addetti ai lavori che ai cittadini è quando riaprirà lo stadio. Il progetto prevedeva un intervento per la realizzazione di un imbiando sportivo polivalente, nel particolare il rifacimento del fondo campo in mando di erba artificiale, finalizzato al miglioramento dell'imbiando sportivo per la pratica sportiva di calcio e rugby. Abbiamo contattato il sindaco Roberto Gambino e l'assessore Marcello Franciamore che non ci hanno rilasciato interviste in merito, ma ci hanno lasciato questa nota. Che trattandosi di regolamenti approvati dalle rispettive federazioni sportive e dal CONI è evidente che ai fini dell'omologazione il comune di Caltanissetta può soltanto ottemperare a quanto richiesto dai vari organi ufficiali sportivi. Considerando che attualmente le principali squadre di calcio e rugby militano rispettivamente nel cambiato di eccellenza il calcio in Serie C e il rugby, è volontà di questa amministrazione dare l'opportunità ad ambedue le squadre di poter utilizzare lo stadio Marco Tomaselli, previa omologazione di ambedue le federazioni. Tracciando in modo stabile solo le linee del calcio e con vernici pitturate con le rugby è possibile ottenere ambedue le omologazioni e consentire alle due squadre di poter utilizzare i fini agonistici l'inviando del Marco Tomaselli. Poiché i pareri e i regolamenti sopra riportati sono successivi alle date del bando, il capitolato tecnico deve essere adeguato alle successive valutazioni necessarie ai fini delle rispettive omologazioni. Trattandosi inoltre di lavori a misura, la loro variazione entro certi limitri non pregiudica la validità dell'appalto e lo stesso sono oggi al vaglio dell'ente concedente il finanziamento per la loro approvazione. Ad oggi non è stato ancora emesso il certificato di ultimazione dei lavori.